e buongiorno ragazzi beh come va spero andate bene siete ricapitati di nuovo nel canale del coach bene direi quindi senza perdere troppo tempo magari tu vai un po di fretta andiamo subito al sodo e quindi ragazzi 10 esercizi in modalità tabata 20 secondi di esercizio e 10 secondi sono di recupero tutti d'un fiato e poi recuperiamo un minuto se tu sei bravo poi lo presegui almeno fai un altro giro oppure due se proprio ti senti avanzato l'unica cosa che ti servirà è un rialzo io ho un foam roller oppure possono essere una fila di libri e alla fine per l'ultimo esercizio metterò un libro sopra quindi svolgi questi esercizi con il coach e preparati un ampio spazio una bella bottiglietta d'acqua il timer l'ho preparato io e let's go a 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